E' stato operato d'urgenza a 107 anni per un'occlusione intestinale che poteva costargli cara. Giovanni, classe 1915, è già tornato a casa. Marilena Farinola. Una straordinaria longevità, retaggio delle sue origini sarde. Giovanni, di 107 anni, è già tornato a casa tra nipoti e bisnipoti dopo aver superato con successo l'eccezionale intervento chirurgico al quale è stato sottoposto nei giorni scorsi nella chirurgia dell'ospedale di Molfetta diretta dal dottor Stefano Camporeale. Per il paziente ultracentenario sono stati giorni lunghi e difficili prima l'arrivo in pronto soccorso a Corato, città di residenza dove sono state eseguite le valutazioni clinico-strumentali preliminari che hanno confermato la diagnosi di ostruzione meccanica intestinale poi la procedura di trasferimento nell'ospedale di Molfetta per la concreta possibilità di dover intervenire chirurgicamente in urgenza. In mezzo ad aggravare ulteriormente rischi elevatissimi per il paziente si è aggiunta la positività al Covid-19. Una vicenda complicata presa in carico dalla chirurgia del Don Tonino Bello che in tempi rapidissimi ha attivato l'equip operatoria di urgenza e sottoposto il paziente a valutazione del rischio cardiologico giudicato e elevato dallo specialista. Proprio l'avanzatissima età del paziente ha reso ancora più complesso il discorso post-operatorio. Una nuova prova per la salute dell'ultracentenario affrontata festeggiando il centosettesimo compleanno durante l'addegenza insieme a tutto il personale medico infermieristico e operatori sociosanitari. Le statistiche infatti non erano dalla parte di Nonno Giovanni perché pochissimi sono gli ultracentenari che sopravvivono ad un intervento di chirurgia così delicato. Eppure tutto quanto gli occorso non è stato sufficiente ad avere la meglio sul suo attaccamento alla vita e sulla sua tempra straordinaria.